Buonasera, un tempo si diceva vedi Napoli e poi muori, adesso vedi Napoli e un posto al sole, là, eccolo qua, Patrizio Risto, un monumento nazionale della tv italiana. Buonasera Risto, lei è uno dei grandi protagonisti di un posto al sole, lei interpreta Raffaele, il portiere di Palazzo Pellegrini, io la seguo sempre. Palladini, Palladini. Allora io ho visto un'altra fiction, scusate. I Pellegrini e l'ospedale. Ma lei non ha fatto anche il portiere Palazzo Pellegrini? No, magari lo farò. Lo farà, vabbè, comunque non importa, io la seguo sempre lo stesso. 28 anni che cerco di seguirla sempre e comunque, perché sono quasi 28 anni che lei è in onda con questa sopopera. Sempre grazie a Giovanni Minoli, lo dico anche perché sarà nostro ospite la prossima settimana. Applauso, applauso. Benissimo. 28 anni. Ma lei, scusi, non si è ancora scucciata di fare sempre questo personaggio? L'ho detto anche alla sua collega Tagliaferri la scorsa settimana. Ma per l'amor del cielo, pensa quanto mi sarei scucciato a fare l'attore senza lavorare. Questo è vero, meglio lavorare. È una lotteria lavorare 28 anni. Però a lei dovrebbero fare, lo dico veramente perché mi è molto simpatico, però è una faccia che non si dimentica. Dovrebbero farle un monumento in piazza Garibaldi vicino all'eroe dei due mondi perché è veramente il traino di questa soppa. È il migliore di tutti. No, per carità, sono tutti bravi. No, noi siamo una squadra guai a mettere in zizzania. Siamo veramente un miracolo. Un miracolo italiano. Senta, lei Patrizio ha fatto il calcolo dalla prima puntata. Settemila puntate, settemila puntate. Ci può fare il riassunto? Sì, l'equivalente, penso, di un duemila circa film. È pazzesco. Il riassunto qual è? È la vita quella che viviamo tutti i giorni. Quindi ci sono i guai, ci sono le cose divertenti. Ah, ecco, me la fa veramente. È vera, sì. Ah, mi fa veramente il riassunto. Lei dice che da quando fa questo spettacolo è un sano bipolare. Mi spieghi meglio cosa vuole dire? Che riesco a gestire le due personalità che vivono in me. riesco a gestire. Quello vero? E quello fiction? Quello vero ormai è in minoranza, perché io vivo più con i miei colleghi di Un Posto al Sole che non con la mia famiglia. E infatti la domanda che segue è questa. Lei ha dei figli, no? Sì. Ma vede più i suoi o quelli finti? Quelli finti, sicuramente. E non li scambia mai. No, ma la... E non li scambia mai. È vero. Io il rapporto meraviglioso ce l'ho con i finti. Con quelli finti? I veri. Che li tratta come veri? Li tratto come veri, ma mi danno più soddisfazione, perché sono inafferrabili quelli veri. Esatto. Devo pregare di vederli. Ma c'è un po' di competizione tra quelli finti e quelli veri? No, sono cresciuti insieme, quindi per cui si sono moltiplicati. Ma è incredibile. È cresciuto con i suoi figli, che non vede mai, ma lui ha visto dai suoi figli alla televisione con i figli di un altro. È bella questa. Ma i miei figli sono cresciuti con i miei figli finti, per cui è tutta una famiglia allargata, capito? Beh, mi piace molto. Senta, lei cucina nella fiction? Sì. Cucina. Però lei cucina anche a casa, infatti è l'autore di un libro che si chiama Un posto al sale, no? No, Un pasto al sole. Senza sale. Qual è il tuo piatto forte? Guarda, io amo fare i primi perché io cucino come recito. Tu dici una schifezza allora, non è vero. Cioè io mi auto annoio, per cui apro il frigorifero e contamino la ricetta con la quale sarei voluto partire a fare un piatto. Però poi comincio a dire, ma fammi provare a mettere questo, fammi provare a mettere quello. Quindi improvviso anche lì. Improvviso anche lì. Però lei è un attore che ha fatto tanta gavetta, ha cominciato con il cabaret, poi il teatro, con alcuni attori di teatro molto importanti che vi faccio vedere. Questi, là! Metteteli sulle schermi! Eccole qua, la Morriconi, Caprioli e la Gravina. Attori di primo piano del teatro italiano. E dire che lui, che poi è lei, aveva una sua compagnia teatrale e poi è arrivata alla televisione. Sì. Ecco, com'è il provino per entrare a un posto al sole dove io vorrei entrare subito dopo la fine di questa trasmissione? Guarda, è una lotteria, ma poi io ho una fisicità molto particolare, per cui io già a 16 anni avevo i capelli bianchi, per cui io sono fatto sempre i fuori ruolo, il che mi ha consolidato come mestiere, perché io a 16 anni facevo già delle parti di 35 anni, a 30 con la Morriconi ho fatto il marito della Morriconi, Madame Saint-Jean, con grande gioia dei produttori che risparmiavano su di me, perché ero giovane. Però, insomma, avevo sempre una difficoltà a fare i provini. Però poi ero preso perché sono molto veloce con la memoria, mi chiamano Scannerman. Buona questa. Scannerizzo la scena e la faccio. Per cui al provino non mi prendevano perché c'era sempre il giornalista più giornalista di me, l'attore giovane più attore giovane di me, e mi scartavano. Però poi dopo mancava qualcuno in compagnia, conoscevano questa mia capacità e io andavo a sostituire, ho fatto sostituzioni al volo micidiali. Hai capito? E noi abbiamo la prima... Una volta ho parato la parte in aereo. Sì. Qua arrivai a Milano, c'era il teatro pieno, è guerra, non te lo ricordi il produttore guerra, mi disse, ma te la senti di andare in scena stasera? Io dissi, quello domani pretenderà da me che io sappia la parte, invece vado in scena, andai in scena così, con l'aereo, col fax, mi leggevo la parte. Velocemente. Però nella prima scena del suo esordio a un posto al sole, forse la memoria non serviva. Vediamo. Prego dalla regia, là. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile. L'esperienza del mondo, intrisa di gioie e di dolori, tentazioni e rinunce, non è che la prova suprema che il Signore ci concede per aspirare alla pace eterna. Era muto, ma era muta anche la tagliaferri, quindi porta bene debuttare con un defunto. Sì. Eh? Ma porta bene anche defungere nelle serie. Io sono morto 6-7 volte. Complimenti, sei in gran forma. Ci vediamo dopo la pubblicità. Non andate via, che c'è sempre lui. Segui Dan, ladies and gentlemen. ben tornati telespettatori con Patrizio Rispo. Non l'hanno mai chiamata Rospo? Mai? Il gioco a scuola sicuramente c'è stato. Guarda, è un classico quando andavo in Alberio e lasci il documento. Come ti chiami Patrizio Rispo? Rispoli? No, Rispo. Crispo? No, Rispò. Ah, con l'accento dico lasci perdere, metta quello che vuole lei. Eppure sei per breve, è facile. Esatto, esatto. Per fare il suo ruolo, come diceva prima, si entra e si esce, però si sta molto dentro perché lei è in gabbia da 28 anni. I pregi e i difetti di essere il portinaio di quel palazzo, quali sono? Dunque, è un po' il tramite con il pubblico. Cioè, mentre con gli attori che interpretano ruoli magari aristocratici oppure più distanti dal popolo, ci sta un distacco anche nella vita. Io se esco con i miei colleghi, loro mi vivono come portiere, cioè non chiedono l'autografo a lui, vengono a me e mi fai fare un autografo a lui. Ma perché? Quindi, questa è una vicinanza come se vivessi un ponte tra la fiction e la vita vera. Ma episodi invece che l'hanno in qualche modo imbarazzata, qualcuno che le viene a chiedere, non so, le chiavi dell'ascensore per dire. No, le chiavi dell'ascensore no, vabbè, mi chiedono sempre ah ma stai qua, non stai a Palazzo Maradì, guarda esiste pure il citofono, questa è la cosa più banale che risponde. No, la cosa imbarazzante è la confusione quando ti chiedono gli autografi. Cioè, a un funerale, cioè c'erano le due bare e mi hanno chiesto scusi, e dico, prego, dica, possiamo fare una foto? Lei è un idiota, cioè a parte la figura che facciamo ma la circostanza, allora queste sono imbarazzate e questo lo fa perché c'è questa confidenza con il mio personaggio del portiere, con gli altri non le fanno queste cose, sono un po' più in imbarazzo. Senta, lei comunque, questo l'ho letto, non ho visto il film, però lei ha partecipato alla realizzazione di un film internazionale di Gayo Ricci, l'ex marito di Madonna. L'unico film che ha sbagliato qui Ricci. Ecco, appunto, le volevo chiedere, nonostante il fatto che il film fosse internazionale e avesse delle grandi star, lei parlando del film dice l'unico brutto che ha fatto Ricci. Perché? Perché vinse l'Oscar come film più brutto dell'anno. Ah, lo vinse veramente il premio? Sì, come Oscar del tuo film. Sì, quelli negativi, quelli negativi. Era il rifacimento del film dell'Averti Müller Persi in un mare d'agosto. Sì, Travolti, Travolti in un mare da un solito destino. Ecco, senta, però lei in questo caso ha sfatato il luogo comune per cui chi fa tanta fiction, chi fa tanta televisione sop, viene poi dimenticato dal cinema. No, non l'ho sfatato perché è ancora così. Eh no, lei l'ha fatto il film. Eh, ho fatto un film, ma... Uno so, quindi bisogna ancora sfatarlo. Sì, anzi, è un bacino di attori che hanno un mestiere invidiabile, dovrebbero attingere molto di più da... Invece dicono no, ma lui fa le sopra. Fa la televisione. Fa la televisione, Poi quando vai a fare cinema rimangono sorprese perché abbiamo una capacità e una freddezza sul set che appunto ho fatto l'equivalente di 2000 film che difficilmente altri attori hanno. Produttori, prendeteli, prendeteli che sono bravi. Ormai l'arrivo ai giovani che ci portano. Ma lei può fare tutto, si può anche dipingere i capelli di nero e tornare indietro. Comunque abbiamo l'immagine invece sempre della prima puntata di 28 anni fa quando parla. Vediamola, prego la regia. Ah, te l'ho già raccontato di quando tornavo dalla partitella di calcio? Io non ci posso pensare, guardi, io stavo per i fatti miei. All'improvviso dal nulla escono quattro marioli. Poco da banca, da poco da banca mi rinverono di mazzata. Anzi Anna, rivedendo la scena sono quasi sicuro che erano cinque. Oh, Rossi, aspito. Veramente tua moglie mi ha detto che è stato un incidente, che tu una sera che avevi bevuto un po' troppo attraversando la strada. Invidiosi, bastardi invidiosi. Loro lo sapevano che io diventavo uno grande, Annina io con due gambe diventavo come Maradona. Hai presente? Dico Armando. È bella, questa è la prima scena in assoluto, ma la cosa bella, a parte come vedi il portiere era scritto come i portieri di Eduardo con la cannottiera e la scarpa bucata, ma era zoppo perché era un ex calciatore. Pensa se io non avessi fatto dimenticare questa cosa avrei dovuto zoppicare per 29 anni. Sarebbe stata dura. Sarebbe tremendo. Comunque insomma, io direi che la sua interpretazione del personaggio ormai è dentro di lei. Ma se la Rai arrivasse e dicesse Patrizio da domani fai Don Matteo che succede? Lei fa Don Matteo e lascia il posto al sole oppure? Se non si può raddoppiare la cosa. E cosa sceglie? Cosa sceglie? Un posto al sole. Un posto al sole. E noi non possiamo che ringraziare lui ma anche qualcuno che lo fa lavorare da 28 anni. Mamma Rai! Grazie! Grazie! Fortissimo! Grazie!